La situazione pandemica è migliorata e se rimarrà l'attuale incidenza settimanale sarà possibile dal 21 giugno la classificazione ufficiale in zona bianca. Entro fine mese il 50% della popolazione all'altotesina avrà ricevuto la prima dose di vaccino. E' quanto hanno riferito al presidente della provincia Arno Compacere, l'assessore Thomas Wittmann, intervenendo in apertura delle sessioni di giugno. La difensora civica e il presidente del Comitato Provinciale per le Comunicazioni hanno quindi presentato le rispettive relazioni sull'attività 2020. Gabriele Morander ha riferito di tanti reclami dovuti alle restrizioni e alle sanzioni connesse alla gestione della pandemia. Roland Turk ha illustrato l'opera di sensibilizzazione su fake news, tutela di minori in internet e pari considerazione delle donne nei media. In quanto alle proposte delle opposizioni è stato accolto solo un voto di Partito Democratico, SVP, Gruppo Verde e Tim K per invitare governo e Parlamento a ridurre la tassazione sui prodotti per l'igiene femminile. Rispinti tra gli altri un voto della Sud Tirole e Freiheit per la concessione della grazie agli attivisti sutirolesi. Uno di Freiheit, Tim K, Sutirole, Freiheit, Enzian e Gruppo Verde per la cancellazione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario e sociosanitario. Un disegno di legge del Gruppo Verde affinché la provincia gestisse e limitasse il traffico aereo sul proprio territorio. Uno del Tim K per permettere ai comuni di aumentare la liquida IMI fino a 5 punti percentuali e uno di Fratelli d'Italia per consentire l'utilizzo da parte di tutti i cittadini di infrastrutture finanziate dalla mano pubblica come le strade del Cuneo Verde a Bolzano. Approvate le proposte della SVP per promuovere la formazione infermieristica assistenziale, sollecitare una revisione del codice degli appalti pubblici, sostenere una elaborazione trasparente e inclusiva delle vicende storiche locali, contrastare il campeggio selvaggio, gestire a livello locale la protezione degli animali. Via Libera infine a due disegni di legge provinciale delle SVP, uno passato con una sola stensione per prevenire e contrastare mobbing e violenza sul posto del lavoro ed uno per rendere concretamente attuabile l'attuale legge provinciale sulla democrazia diretta. Esso prevede tra l'altro la possibilità di collocare presso l'Eurac l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione con un ufficio di collegamento presso l'ufficio di presidenza del Consiglio. Ritenendo quest'ultimo espressione prevalentemente della maggioranza, le opposizioni hanno criticato la misura, opponendosi anche fortemente alla cancellazione del referendum confermativo avvenuta tramite un sub-emendamento di Forza Italia Alto Adige su Tirol. La SVP ha riplicato che la relativa disposizione era incostituzionale in quanto tale referendum non era previsto dallo statuto. Il disegno di legge è stato approvato con 18 sì e 15 no.